Una tariffa unica valida 24 ore e al costo di 2 euro per l'accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza Stazione Ragusa in modo da consentire la possibilità di parcheggiare sia ai residenti della zona che a coloro che intendono facilmente raggiungere il centro storico passando da Viale Tenente Elena. E' la novità presentata dall'assessore comunale Ciccio Barone e dalla ditta Sisosta la società che gestisce tre parcheggi sotterranei della città. Con la nuova tariffa introdotta in via sperimentale per alcuni mesi si andranno ad agevolare anche gli automobilisti che prossimamente potranno usufruire del servizio di bus navetta attivato da Ragusa Superiore a Ragusa Ibla. Un modo in più per favorire gli utenti nella sosta in centro storico fanno sapere dalla Sisosta grazie al parcheggio sotterraneo multidivello di Piazza Stazione dove facilmente si può sostare rimanendo protetti dalle intemperie e supportati dalla telesorveglianza. Tra le novità riguardanti i parcheggi su strada grazie alla nuova intesa raggiunta tra Sisosta e Comune di Ragusa saranno adottati gli stessi orari e le stesse tariffe delle normali strisce blu anche per i 67 stalli di piazza ospedale e di via della chiesa la cui gestione è stata assegnata a Sisosta. Infine sono stati previsti 27 pass per i residenti della zona del tribunale che potranno utilizzare dalle 13 alle 9 del mattino successivo il parcheggio sotterraneo Carbine Putie. Sisosta ha spiegato in conferenza stampa all'assessore Barone ha sempre accettato di buon grado di avviare questa sperimentazione che riguarda sia il parcheggio stazione che gli stalli su strada che rientrano nella loro gestione offrendo così ai cittadini la possibilità di parcheggiare si spera più facilmente.